L'ex geffina Antonella Fiordelisi è pronta a dire addio a una parte del suo passato, per una grande novità. La bella salernitana Antonella Fiordelisi sta vivendo un periodo davvero magico, idilliaco. Amore a vele spiegate, famiglia e amici sempre presenti e una carriera che le sta regalando continue soddisfazioni. Da quando ha lasciato la casa del GF VIP, si può dire che lei non è riuscito a fermarsi nemmeno un giorno. Una consapevolezza che nasce da una documentazione davvero ricca di contenuti postata sul suo profilo Instagram. Quello che emerge ora, è che per arrivare ad alti livelli sarà costretto a dire addio a una parte della sua vita. La nuova vita di Antonella Fiordelisi nell'ultimo periodo la vita della sceneggiatrice Antonella Fiordelisi è stata protagonista di diversi cambiamenti. Da quando ha lasciato casa del GF VIP e ha iniziato a vivere sua storia d'amore con Edoardo Donna Maria, per Bella Salernitana, sua carriera le sta riservando grandi opportunità. Tante campagne pubblicitarie e diverse le collaborazioni, che stanno occupando molto del suo tempo. Un momento che non le permetterà certo di farsi vedere all'interno un reality, stando lontana da casa per molti mesi. Scacomatto per Antonella Fiordelisi il pubblico ha avuto modo di conoscere Antonella Fiordelisi in modo più approfondito in seguito alla partecipazione al reality show GF VIP. Un'esperienza che ha mostrato la sua forza ma anche le sue tante fragilità, soprattutto con il fidanzato Edoardo Donna Maria. Tuttavia, a distanza di mesi dalla fine dell'avventura nella casa più spiata di Italia, per Antonella Fiordelisi è arrivato il momento di dire addio a questa parte della sua vita. Grazie a tutti.